È pronto a ricandidarsi Carles Puigdemont, il governatore catalano deposto dal governo centrale spagnolo in forza dell'articolo 155 della Costituzione e ora ricercato dalla magistratura di Madrid che ha spiccato un mandato d'arresto europeo, non ha per ora intenzione di consegnarsi, non almeno alle autorità spagnole. In una lunga intervista alla televisione belga ha detto di essere eventualmente a disposizione della magistratura, ma quella belga, che esaminarà nelle prossime ore la richiesta d'arresto spagnola. Puigdemont ha detto di essere pronto a ricandidarsi nelle elezioni regionali anticipate, fissate dal governo madrileno per il 21 dicembre, e alla giornalista stupida di una candidatura nel corso di un'eventuale permanenza all'estero ha risposto «Certo che si può condurre una campagna dall'estero, stiamo in un mondo globalizzato e vogliamo che quelle elezioni si svolgano nel mondo più normale possibile». E non è certo che un governo in prigione ha aggiunto che quelle elezioni potranno essere neutrali, libere, normali. La magistratura spagnola ha in effetti confermato che per Puigdemont, come per i suoi ministri attualmente in carcere, vale la regola della presunzione di innocenza, fino a condanna definitiva hanno il diritto di candidarsi, ed è del tutto improbabile che una condanna definitiva possa arrivare prima del voto di dicembre, un voto che rischia di sottolineare ulteriormente la spaccatura esistente nella società catalana.